Perché è importante avere obiettivi nella fede in Yahweh? Gli obiettivi ci danno una direzione chiara e un senso di scopo nella nostra vita spirituale. Ci guidano lungo il cammino della fede, aiutandoci a crescere, a maturare e a mantenere viva la nostra relazione con Lui. Quando abbiamo degli obiettivi ben definiti nella nostra fede, siamo più motivati, più concentrati e più determinati a perseguire la volontà di Eloha per la nostra vita. Inoltre, gli obiettivi ci danno una misura tangibile dei nostri progressi spirituali. Ci aiutano a valutare dove siamo e dove dobbiamo ancora migliorare. Ci incoraggiano a perseverare nelle sfide e a celebrare i successi lungo il percorso. Senza obiettivi nella fede, rischiamo di andare alla deriva, di smarrire la nostra passione e di perdere di vista il significato della nostra relazione con Yahweh. Avere obiettivi nella fede in Eloha ci permette anche di essere più disciplinati e costanti nella nostra pratica spirituale. Ci aiuta a creare abitudini positive che ci avvicinano sempre di più a Yahweh e che ci rendono più simili a Lui. Gli obiettivi ci sfidano a crescere, a superare i nostri limiti e a vivere una vita di fede piena e soddisfacente. In conclusione, avere obiettivi nella fede in Eloha è importante perché ci aiuta a dare senso e direzione alla nostra vita spirituale, a valutare i nostri progressi, a essere disciplinati e costanti nella nostra pratica spirituale e a crescere nella nostra relazione con Lui. Che ogni obiettivo che ci poniamo ci avvicini sempre di più al cuore di Eloha e alla sua volontà per la nostra vita.